Ma il turismo è un bene o un male per le città? In realtà la cosa non è poi così chiara, nel senso che certo il turismo può portare ricchezza, benessere, ma esistono anche degli aspetti oscuri del turismo, soprattutto quando non è regolamentato o quando è mal governato, che possono anche portare dei risultati negativi per le città stesse. Cioè possono andare a detrimento della città, provocare un consumo di città. La cosa in realtà non è nuova, nel senso che già sul finire degli anni 90 alcune città europee che avevano un particolare flusso di turisti si erano chieste poi in realtà quanto benessere portasse il turismo. E ultimamente il discorso è tornato all'ordine del giorno vedendo quello che sta succedendo in città come Firenze o già da tempo per esempio a Venezia. A Venezia è stato messo un biglietto di ingresso facendola diventare una specie di parco a tema, di parco giochi, ma evidentemente occorrerebbe una riflessione più consistente su tutto il tema. Perché? Perché addirittura ci sono delle città in Europa come Amsterdam che stanno facendo una politica di de-branding. Che vuol dire? Che la città cerca di disincentivare il turismo o almeno un certo tipo di turismo che apporta poca ricchezza mentre invece crea dei problemi per quella che è la vita normale della città. Per cui ad Amsterdam praticamente qualcuno dice non venite, no? Non venite. E non venite a chi lo dice. Soprattutto a un certo tipo di turismo povero, di turismo di massa che è fastidioso per quello che riguarda lo sviluppo delle normali attività quotidiane delle città e dal punto di vista economico apporta molto poco. E questo dovrebbe fare riflettere. Io sono stato di recente invitato a una conferenza di grandi albergatori a Verona in cui si esprimeva un'enorme preoccupazione, per esempio, per quello che è l'influenza che gli affitti temporanei hanno sull'ospitalità e sulla ricettività di una città come Verona. E' chiaro che gli alberghi sono, come dire, i nemici naturali per certi versi dell'affitto temporaneo degli Airbnb. Però, per altro verso, è anche chiaro che è molto difficile pensare di limitare questo tipo di realtà se non si approntano degli strumenti regolativi, degli strumenti di tipo giuridico e di tipo amministrativo. E questo apre un altro discorso. Noi viviamo in una città in cui finora il turismo non è stato assolutamente regolamentato con degli aspetti anche, che potremmo dire, patologici, di grande afflusso in zone molto limitate della città di un turismo, quello dei croceristi, che molto spesso è un turismo che ha una ricaduta economica molto limitata. E qui, però, evidentemente, andrebbero fatte delle scelte che per il momento nessuno sta facendo. Perché, se si volesse veramente pensare a un turismo diverso, bisognerebbe programmare, organizzare, avere delle strutture ricettive che rispondano anche a un progetto, un disegno complessivo di come la città vuole utilizzare questi flussi turistici e di come se ne vuole servire. Di tutto questo, però, per il momento non si intravede neanche l'ombra. Grazie.